Nell'ex provincia di Udine uno sfratto ogni 900 nuclei familiari, in Italia uno ogni 600, a sottolineare l'ampio divario tra la situazione locale e nazionale la Federazione Italiana Agenti Immobiliari sulla scorta dei dati degli ultimi quattro anni forniti dal Tribunale di Udine. Nonostante inflazione e carobollette il picco non c'è stato nemmeno dallo sblocco degli sfratti post pandemia. Guardando ai dati storici si è anzi mantenuto un trend costante con anche un leggero calo nella prima trimestrale del 2023 che sempre in Friuli registra 59 provvedimenti esecutivi di sfratto per morosità contro una media di 65 degli ultimi sei anni. Nel 2022 invece sono stati in totale 184 contro gli oltre 240 degli anni pre-pandemia. In tutti i casi hanno riguardato in numero maggiore le famiglie italiane piuttosto che straniere. Se il mercato locativo tiene, afferma Luca Macoratti, presidente provinciale della FIAIP di Udine, è per il grande equilibrio tra la redditività e i canoni di locazione, ma anche per la forte collaborazione tra proprietario e inquilino nel trovare in caso di difficoltà una soluzione transattiva e solidale quasi un unico. A confermare il quadro positivo, rileva il vicepresidente nazionale della FIAIP e Leonardo Piccoli, sono anche i dati sull'acquisto delle seconde case che nel secondo trimestre del 2022 hanno raggiunto il 37% delle compravendite complessive contro una media storica del 25%, segnando un aumento di ben il 12% città-capoluogo, ma anche località di vacanza, borghi in testa, le zone dove sono più ricercate, seconde case, che i sull'anni tengono per sé, ma anche mettono reddito affittandole.